Cari amici, voglio trasmettere anche a voi una realtà che il dottor Sergei, anestesista dell'ospedale San Francesco d'Assisi, in questi anni di incontro, di dialogo, ha trasmesso a me, però sentirlo dalla sua viva voce è tutta un'altra cosa. Allora, Sergei, qual è stata la tua esperienza di medico dell'Armata Rossa in Afghanistan? Quando mi ricordo di questa guerra che ho visto io, è terribile, per me è un po' difficile di raccontare della guerra. Io ho stato anestesista capo dell'exercito dell'Afghanistan, avevo molto lavoro, avevo 13 ospedali, un ospedale centrale e anche 12 più piccole ospedali. Un giorno avevo traumatici, più o meno, avevo 50-60 giorni, più o meno, avevo 30 giorni dopo il mio arrivo, avevo 26 traumatici, quando ho visto prima volta, tutti gravi, io non sapevo ci fare. Dopo tre mesi, io sono accomodato, mi è accomodato e si è lavorato bene. L'esperienza è grandissima. Un giorno dell'Afghanistan è uguale come 10 anni di lavoro in ospedale civile. Un giorno in Afghanistan è come 10 anni di lavoro in ospedale civile. Qual è stato il momento più drammatico della tua vita di uomo e di medico? Più drammatico, noi abbiamo perduto una unità militare, più o meno, 600 uomini in due ore. Si portava da noi come elicotteri permanente. Noi tre giorni siamo usciti da un'operatore, medici. E cosa dobbiamo dire a questa umanità che gioca ancora a fare la guerra? Ma una parola semplice tua che arriva proprio da quell'inferno che tante volte noi lo sentiamo solo dire da lontano. Io sono detto, una volta dico che io sono anti-guerra, questa nuova umanità, con arma non si può prendere nessuna decisione, non si può fare niente con arma. È necessario con parole. Queste sono parole di un uomo che ha dato la sua vita per gli altri uomini, per i fratelli, e ha vissuto nella guerra e ha dato la sua sentenza sulla guerra. Con questi uomini, amici, andiamo avanti sempre con fiducia, noi e il mondo intero. Grazie. 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 Grazie.